Antipasto ed insalata di rinforza con sottoli e sottaceti, spaghetti a vongole, frittura di pesce e capitone, un buon bicchiere di vino, mostacciuoli e rococò, una fetta di panettone e un goccio di champagne o sfumante italiano e poi, giusto per gradire, un goccio di grappa o di whisky. Ecco in sintesi il cenone di Natale che sarà consumato in quasi tutte le famiglie della nostra terra. Si mangerà è fuori dubbio, ma la gioia è lo stare insieme, vivere in famiglia un attimo di serenità in attesa della nascita, doverosamente a mezzanotte, di Gesù Bambino, adagiarlo all'interno della grotta e poi ci moviste per Natale. E con un pizzico di commozione ci si abbraccia e ci si scambia gli auguri con le persone care. Buon Natale, buon Natale a tutti e fortuna, salute e serenità siano i doni che Gesù lascerà nelle vostre case, nelle case di tutti quanti noi. E allora, buon Natale e buon cenone. Ho preparato quasi già, ho preparato le vongole, poi faccio i gamberoni e un po' di baccalà. Un po' poco, poco, un peccettino, diciamo un Natale, santi cori. No, no, e lo mangio già adesso. E facciamo, noi siamo solo io e mia sorella perché nella confusione non ci voglio stare. Stelle a Natale? Sì, questa è una tradizione della nostra famiglia, Collaps, allora abbiamo deciso di portarla anche oggi quando c'era. Quindi voi tramandate l'attività familiare? Sì, esatto, esatto. State stabilmente qui o solo in occasione del Natale? No, solo in questa occasione, però solitamente ci mettiamo sempre a nocera nei pressi del cimitero. Ma stasera è d'obbligo consumare quello che viene preparato? Sicuramente, certamente, come no. Che cosa mangerà stasera? Ma sempre a base di pesce, credo. Un po' di spaghetti e vongole? No, le vongole io sono un po' intollerante, le scampi. Scampi, poi mangiamo un po' di fritto. Un po' di pesce in bianco. E poi si aspetta la mezzanotte? Sì, sono a casa con i miei, è venuto anche il nostro figlio da Barcellona, quindi abbiamo i figli a casa. Quindi un bel Natale in Pramica. Sicuramente. È sempre così come tradizione. Avvocato, buon Natale. altrettanto con grande affetto a lei, da parte mia sicuramente lo sa da tempo. Per lei e per la televisione che lei rappresenta, che è sempre a noi vicini. E il capitone? No, non c'è. Il capitone non più, lo faceva la sua mamma che adesso è quasi centenaria. Arriva per i 99 e allora non ce la fa più. Però è molto vigile ed è lei che coordina ancora con i figli. Anzi, li striglia pura l'occorrenza. Tutta la famiglia? Tutta la famiglia ci riuniamo. Ora, non solo una... È andata a fare la spesa? Sì, ora sto andando a fare gli ultimi regalini. Ah, i regalini? Sì. Chi è che cucina? Cucinavo insieme io e mia suocera. Chi è più brava? La suocera. La suocera. Che cosa sta preparando? È il classico cenone a base di pesce. Per cui frittura, baccalà. E il capitone? No, no. Non lo va a dire? No, quello no. Qual è la spesa? Che cosa ha comprato? No, ho preso solo i carciofi. Pure i carciofi stasera? Arrostiti. No, domani. Ah, domani. Stasera solo a base di pesce? A base di pesce, sì. Che cosa ha preparato? No, faccio solo la frittura e bongole. Spaghetti a bongole. Molto abbondante. La famiglia quanti sarete? No, siamo tre. Un po' di capretto, un po'. Diciamo un po'. Per domani. Eh sì, per domani. Senti, che mangerai stasera in maniera abbondante? Allora, l'antipasto sicuramente. Rinforzo? Ah, sarà così, si dice di rinforzo. Va bene. Che deve rinforzare? A casa mia sono fissati l'antipasto, praticamente. Poi verrà un classico spaghetti a bongole. Però un spaghetti a bongole rinforzato. Pure che c'è? Eh no, e ci mettiamo i massangollari, non ne parliamo proprio. Fegatini, pure. E manca i cani, le maritiche, senza se la roba è a casa. Un lutto. Un lutto. Un lutto. E allora, buon Natale. Auguri a tutta la famiglia e non mangiamo troppo. No, vabbè. Giusto dovuto. Si dice, ma noi, uno pensa di mangiare tanto, però. No, no, magari sono tutti assaggi. Stasera il cenone dove lo consumerai? Eh, a casa. Con moglie, figli, parenti. Quanti ne sarete? Non tanti, perché, vabbè, la famiglia è unita, sto da mia suocera, quindi voglio dire, siamo insieme, vecchie tradizioni. Vecchie tradizioni, che cosa si aspetta di mangiare? Ma io ho chiesto una cosa leggera, perché sinceramente tu arrivi già stomacato, già arrivi distrutto. Che cosina, la sua, c'era o la moglie o le cognate? Penso mia moglie, penso. Penso mia moglie, sì. Sì, la signora è brava? Insomma, insomma. Insomma, buon Natale. E mi raccomando, manteniamo la linea. Sempre, sempre.